Noi fascisti, le pagano i padroni, vergogna, muti, criminale assassino, è una vergogna, è un eroe solo per i fasci di merda e quel ditino, no. Non ce li andate perché dobbiamo cambiare qua, le dite, vieni, vieni, lo sai con cosa ti colpisco? Come ci hanno relegato i vostri amici, inite a leggere i cartelli, ah non sapete leggere, scusa. La veridiana mi vuol dire che sente la nostalgia, c'è il passato, quando muti è stato ammazzato. Lasciate in storia i bambini, i bambini non si toccano! La veridiana mi vuole! La veridiana mi vuole! Ma che facciamo? Ringırano, la veridiana mi vuole! Grazie! Grazie a tutti. Questa è un'impresa clamorosa, una delle prime, quindi questa è un'impresa che non senta assolutamente niente con l'apologia del fascismo. La NAI non vuole ricostituire il disciolto partito nazionale fascista. La NAI non vuole prevaricare moralmente, fisicamente contro rate o etnie diverse. La NAI vuole commemorare i suoi defunti. Nient'altro. Ci vietano praticamente anche di depositare la corona di fiori nel Candiano. Pensate un po', ci passano delle mucche morbide, ma quelle va bene tutte. Ci hanno detto che è un'offesa per Ravenna. Io non voglio fare polemiche perché non siamo chi per fare polemiche, ma ci tengo a dirlo. Io ho appena letto in sole 24 ore dove c'è stilata la classifica delle città più pericolose d'Italia. Ravenna è al diciassettesimo posto. Pensate quante sono le città in Italia. È al primo posto come furti negli appartamenti. Ma il problema di Ravenna è la corona di fiori nel Candiano. È una cosa scandalosa. Vediamo che tutti quanti i testimoni sparivano qui. Ettore Muti quella notte dopo aver guidato, lo dì un fornaio vicino che stava impastando. Ma insomma, che fate? Sono o no con degli italiani? Morì nell'oscurità. Lui che aveva tanto amato il sole e gli spazi azzurri. Ad opera di sicari che bene o male vestivano la divisa italiana. Chi rivede la sua salma dice che aveva un sorriso sprezzante, ma il volto sereno, come il feccio maresciallo Romer costretto a suicidio, la stessa espressione sprezzante, ma la serenità del soldato che ha fatto il suo dovere senza lasciarsi sporcare dalla bassa politica. Così dunque morì Ettore Muti. Savari, attenti. Tenente colonnello Ettore Muti. Tenente colonnello Ettore Muti. Tenente colonnello Ettore Muti. Presidente. Camerati, sciogliete le righe. È grave.